Un gruppo di amici Noi siamo un gruppo di amici che si riunisce una volta al mese per applicare alla vita l'insegnamento dei maestri immateriali. Parliamo delle esperienze che ci hanno avvicinati all'insegnamento e di quanto questo ci ha dato. Cominciamo così. Marcello ferma la macchina in uno spiazio di ghiaia ed entra in casa. Scende nella cucina dove la moglie Daniela ha appena bevuto il caffè e getta il giornale sul tavolo. Un titolo enorme grida per loro. Il finanziere Benesti si uccide dopo il fallimento della scalata alla ria. Chi è Benesti? chiede Daniela. È uno che ha fatto di tutto per comprarsi la ria ma alla fine la ria ha comprato lui. Come sempre i maestri non hanno detto a caso. Tu sei padrone di tutti gli eventi che puoi dominare. Viceversa, le cose per le quali provi necessità imperiosa sono esse, tu è padrone. Non potrai volere troppo fortemente, per cui non tentare di volere due cose insieme. E mentre vuoi una cosa, non desiderarne un'altra. Ti sarà capitato qualche volta di essere passato accanto a una certa persona per strada, superandola nel tuo cammino e nel superarla di aver provato una certa attrazione. È la volontà di vederla di nuovo. Girandoti, hai visto che anch'essa si era voltata a guardare te. La tua volontà, benché non è allenata, può essere stata sufficiente a fare questo. Se però, sempre senza essere allenato e preparato, uscirai nuovamente per strada e deciderai di compiere l'esperimento di volere che chiunque ti sorpassi si volte a guardarti, tentandolo, fallirai. Perché il desiderio di soddisfare la tua curiosità ha indebolito la forza del tuo volere. Commento Il brano è delle guide che si sono manifestate attraverso il cerchio Firenze 77. Questo cenacolo per quasi 40 anni si è riunito intorno allo strumento Roberto Setti, 1930-1984. Roberto, per la vastità dell'insegnamento che abbiamo ricevuto attraverso di lui, per i fenomeni affettivi e fisici di cui è stato tramite, può essere considerato uno dei più grandi medium del secolo scorso. Grazie a tutti.